Ciao bambini, adesso facciamo un esperimento. Adesso vi dico che cosa serve, sempre un aiuto con un grande, sempre. Allora ci vuole un po' di acqua ossigenata. Un pezzetto di patata cruda, una pipetta, una pinzetta, ecco qua, e una rovetta. Ok, possiamo cominciare a mettere l'acqua ossigenata dentro la provetta. Vedete, non è successo niente. Aspettate che adesso vedete quello là che succede. L'ho presa, adesso la metto più dentro. Guardate, ci sono le bollicine che stanno a salire, guardate. Fanno andare giù su le palline, vedete? Come l'acqua è gassata. Questo qua è uno sperimento. Questo succede che la patata contiene molecole biologiche chiamate enzimi. Guardate, le bollicine, questa reazione, questa qua è un guarnizione normale, è molto lenta, con l'aiuto delle enzime diventa velocissima. Ok, se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace e iscrivetevi al canale. Un bacio, ti aspetto nell'altro video. Ciao, ciao!